Recentemente, il bestseller di Dan Brown mette Leonardo da Vinci al centro di un intrigo esoterico che evoca la chiera di Giovanni con il nome di Priorato di Sion. Tra costruzioni di fantasia e necessità letterarie, il fulcro della rivelazione è appena sfiorato e rischia di venire spazzato via dalla fuga del chiacchierato romanzo. Esiste un segreto di Leonardo? Qual è la vera storia del Priorato di Sion? Con questo lavoro, l'autore mette insieme tasselli disparati di un'unica storia. Nomi eccellenti si radunano oggi all'ombra del Priorato di Sion. Leonardo da Vinci, Gurdjieff, Saibaba sono solo alcuni tra i maggiori leggenti vecchi e nuovi che illuminano la chiera di Giovanni e che si incontrano in Kashmir, la terra di una prorompente scienza primordiale dove la leggenda tramanda l'esistenza del sepolcro terreno di Gesù. Qui giace anche il segreto di Leonardo. Qui prende vita il mistero di Giovanni. Si è a lungo parlato di un viaggio sfuggito alle cronache di Leonardo. Recenti scoperte rievocano una diatriba che sembrava sopita e dimenticata. L'autore trova l'impronta di Leonardo in Kashmir e lo annovera tra i sufi musulmani, per i quali l'espattrio di Gesù in Oriente e la matrice orientale delle civiltà occidentali non sono mai state un mistero. Favolosi dipinti e ardite composizioni di proverbiale intelligenza sbiadiscono lentamente di fronte all'autentico fuoco leonardesco.